ragazze buonasera buon martedì oggi total black il mio look of the day ma è una giornata piena di colori piena di articoli che ci sono arrivati e nuovi perché comunque abbiamo scaricato qualche articolo nuovo tanti riassortimenti ragazze 19 14 voi ci credete se vi dico che quello che abbiamo scaricato di nuovo non riesco nemmeno a farvelo vedere assortito nei colori perché già li sta in ordine alcuni modelli sono finiti subito cioè ma a due a due ve li prendete cristina ma ha finito per esempio il maglioncino lungo mini abito a costine che eccolo qui allora il modello è lui un mini abito sagomato in lanetta misso viscosa e modalla quindi tanta fibra naturale caldo molto sexy perché ragazze rimane sagomato lungo il giusto a un micro prezzo ragazzi e quindi giustamente chi li prende ne prende due tre colori c'era disponibile anche nella colorazione bordo c'era disponibile nella colorazione nera ragazze latte allora già risa in ordine domani mattina riavremo un altro scarico però mi raccomando se c'è qualcosa che vi piace o vi incuriosisce correte passato il prima possibile contattatemi online se fate lo shopping online ragazze perché qui è un attimo che gli articoli finiscono allora questo modello misso modella viscosa lo vedremo assortito domani spero giuro ve lo faccio vedere subito appena ci arrivano e vi dico che mi sono arrivati loro how do you say delicious the gorgeous the vine the vine ragazze guardate che belli bottoni gioiello per un cardigan ultra morbido il tessuto è un po tipo il maglioncino che sto portando io una cosa fantastica perché compatto liscio analergico per quanto riguarda il tessuto è ultra soffice i bottoni volendo si aprono bottoni gioiello per questo è una delizia ragazze in tutte le colorazioni anche quelle mancanti perché come vi ho detto c'era anche nero ma è andato via subito appena li vedete sul carrello correte furbacchione lo sapete che stiamo scaricando tutti i giorni che ci sono un sacco di novità sui carrelli ragazze bordeaux grigio e poi ancora marrone chocolate anzi un caffè questo in realtà è un un cioccolato fondente ragazzi nel caffè nel cioccolato basico un cioccolato fondente 70 per cento ragazze che bello soffice bello 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 poi mi sono ritornati di nuovo disponibili assortiti tutte quante le colorazioni ope l'hanno sbagliato questa no il maglioncino sondato corto nelle parti laterali destra e sinistra più lungo avanti e dietro giro collo molto morbido che volendo si può mettere anche con la spalla ascesa quindi un po più sexy volendo ragazze in volendo si possono coordinare e ai leggins e ai pantaloni in lanetta che ci sono ritornati di nuovo disponibili assortiti nella colorazione latte nella colorazione bordeaux e ragazze ci sono anche neri quindi brigate che adesso ci sono a un prezzo microscopico come sempre ragazze vi dico che quei maglioni lunghi si possono coordinare benissimo ma anche il mini abito che vi ho fatto vedere che rimane un pochino più sagomato si può coordinare benissimo e ai leggins che ci sono ritornati finalmente di nuovo disponibili nella versione felpata a partire dalla s fino a una doppia xl e nella versione felpata sempre anche coordinabili al pantagezza effetto leggins quindi stretto fino al ginocchio e poi a zampetta comodo come un leggins coprente come un pantalone felpato come un pantalone ma è un leggins e è il prezzo ancora novità ragazze sempre mini abito maxi maglia collo alto finalmente è arrivato il tessuto quello fantastico isomodale viscosa il sagomato perfetto da coordinare volendo anche alle camicette di flanella volendo da coordinare aspetta vi piaccio un secondo qui volendo da coordinare anche sempre a lui allo spolverino che poi vabbè abbiamo anche altri modelli ma volendo si può coordinare pure al cardigan gioiello che vi ho fatto vedere adesso e viene un bel effetto taglia unica per quanto riguarda la dolce vita lunga new entry disponibile nella colorazione nera nella colorazione grigia nella colorazione latte nella colorazione carta da zucchero taglia unica leggermente sagomato ma si può anche regolare per quanto riguarda la lunghezza e poi ancora mia grande gioia ma so anche con la gioia di tante di voi ragazze il basico finalmente la maglina giro collo manica lunga maglina di viscosa leggermente felpatina quella perfetta da coordinare sotto fibra naturale quindi non vi va assolutamente a dare fastidio leggermente calda all'interno disponibile latte nero bordeaux blu camel eccolo nocciola e poi color caffè taglia unica perfetta quelle che vi faccio vedere che sono sempre coordinate sotto e a proposito anche il mio maglioncino ovvero il maglioncino sweet c'è ritornato di nuovo disponibile e assortito nelle colorazioni perché ragazzi è veramente delizioso io ve lo faccio vedere indossato così con la scusa vi faccio vedere pure il look of the day di oggi allora look of the day compost total black ve l'avevo detto quindi jeans a palazzo a vita medio alta semi elasticizzato che veste benissimo ragazzi il modello push up la lunghezza è perfetta da coordinare con qualsiasi tipo di scarpa tante che sono andata a metterci la sneakers e poi sopra lui il maglioncino sweet con le perle con gli strass con un giro collo che rimane morbido ma costato mi piace questa cosa perché è caldissimo ragazzi ci so veramente molto molto bene mi sposto allo specchio davanti per farvi vedere la lunghezza che è perfetta c'è un po più di luce mi copre il passante del pantalone quindi perfetto morbido il giusto taglia unica ragazze il cannolè pure rimane bello morbido quindi non vi va a stringere l'ha visto indossato anche a chi ha il seno un po più grande ragazze sta veramente benissimo taglia unica e poi ancora è un po un riassortimento ma è anche un po una news ragazze il cappottino e lana cotta di nuovo disponibile nella colorazione sabbia questa volta colore nuovo nella colorazione grigia di nuovo disponibile nella colorazione blu inchiostro di nuovo disponibile nella colorazione nera ancora un di nuovo disponibile guardate quanto è bello cioè ragazze parliamone parliamone il melange sabbia e nero anche sul mio outfit di oggi sta perfetto sta perfetto sempre a 20 euro cioè ragazze dai eh che vi devo dire che è una taglia unica che veste benissimo che è leggerissimo di peso cioè guarda come lo tengo col mignolo ma è caldo e poi è avvolgente ragazze guarda hai freddo con questo non più guarda che co ragazze parliamo di questo collo perché io ve l'ho fatto vedere spesso se loro andate a ripiegare bene 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 cioè piove ti copri tutta non piove non ci vedi ecco lo ripieghi guarda come sta bene lo vuoi tirare giù guarda come ti avvolge tipo tortellino guarda quanto è figo la manica è lunghissima volendo la puoi anche risvoltare guarda il colore eccolo il total black che cambia effetto pure lasciato aperto solo così ma ha tutti quanti i bottoncini comunque e poi la vestibilità cioè ci puoi mettere qualsiasi maglione pure quello più pesante più voluminoso con questo steve vabbè ragazze allora io ho perso totalmente la cognizione di tutti quanti gli articoli che sono arrivati nuovi e che abbiamo riassortito perché lui se li sta sistemando tutti ma mi sposta tutto non lo capisce che io poi mi perdo gli articoli vabbè comunque domani mattina il punto vendita mercoledì dalle 9 e 30 alle 13 e 30 sarà aperto nel pomeriggio ah ecco vedi stava sistemato sono arrivate le connelline in lanetta mi sono mi scusa e vota assortite nelle colorazioni ragazze queste non hanno neanche l'elastico in vita quindi sono perfette per tutte le taglie connellina effetto blisse quella che rimane però larga che non c'è il plissettato in realtà perché è tutta dritta si va a svasare comunque adesso con il giacchetto non riesco a farvela vedere domani ve la faccio vedere bene bene questa connellina perché veramente delizia e domani mattina 9 e 30 13 e 30 dalle 16 alle 19 e 30 perché ci saranno un sacco di riassortimenti ma soprattutto un sacco di articoli nuovi domani che arrivano e io ti aspetto qui la mano è tutto ciao